Questa è una settimana molto importante per tutti i canali di Easy Languages perché condivideremo lo stesso tema, parleremo dei modi di dire. Ogni canale prenderà un modo di dire e ne parlerà nella sua lingua ma poi ci saranno, come anche in questa puntata con noi, dei modi di dire simili che hanno lo stesso significato in altre lingue. Ho fame, vorrei una carbonara, ma non voglio uscire, ma vorrei una carbonara. Se solo potessi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Avere la moglie piena e la botte ubriaca. E questa è una cosa che dico sempre, ma è sbagliato perché è avere la botte piena e la moglie ubriaca. Avere la botte piena e la moglie ubriaca. Questa frase è una frase simile alla frase inglese che è letteralmente non puoi avere la tua torta e mangiarla, che non si dice in italiano. No, anche perché in italiano ha un significato un po' diverso e tu dici sì, hai la tua torta e poi la mangi. Giusto. Anch'io mi sono sempre chiesta questo. Perché è avere tutta la torta e mangiare tutta la torta. E poi... no, però l'idea è di mangi la torta, però vuoi ancora avere la torta, però l'hai già mangiata. Giusto. Questa è l'idea. Ed è il significato di... Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Perché significa che non puoi avere due cose positive nello stesso momento. Per esempio, se dici voglio fare una vacanza super lussuosa, ma non voglio spendere soldi. Non è possibile fare queste due cose insieme. E qualcuno ti potrebbe dire, vuoi la botte piena e la moglie ubriaca. Questa settimana gli esercizi Patreon si concentreranno sui modi di dire italiani. Quindi se volete unirvi alla nostra comunità Patreon, oltre agli esercizi troverete tanti altri materiali per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. Se volete saperne di più, cliccate il link in descrizione. E poi adesso dobbiamo parlare del fatto che questa frase effettivamente non va bene. È un po' sessista. Sì. Però devo dire che nonostante sia un po' sessista questa frase, mi piace molto questa frase perché mi fa ridere. È uno dei miei modi di dire italiani preferiti. E quindi propongo che invece di non dirlo più, dobbiamo iniziare a usare la versione maschile. Quindi non si può avere la botte piena e il marito ubriaco. Il compagno ubriaco. Il compagno ubriaco, sì. Io non posso avere la botte piena e Matteo ubriaco. Per approfondire siamo qui a Napoli con Patti, alla quale chiederemo quando le è capitato di usare l'espressione avere o volere la botte piena e la moglie ubriaca. Capita molto spesso quando vado ad acquistare qualcosa perché della mia intenzione c'è la voglia di prendere la cosa migliore, la cosa tecnicamente o comunque funzionalmente migliore, però vorrei anche spendere poco. E quindi vuoi? Praticamente voglio la botte piena e la moglie ubriaca. Voglio risparmiare i soldi ma voglio avere anche la cosa migliore. La questione interessante anche di questo modo di dire italiano è che facendo un po' di confronti con i modi di dire per esempio francesi e inglesi, viene fuori un po' di una delle basi della cultura. Per esempio qui abbiamo usato il vino, quindi avere il vino e berlo fondamentalmente. perché non è che si ubriaca solamente il compagno, ti ubriachi anche tu, cioè ci si ubriaca tutti e si è felici. Però non si ha più il vino, non puoi avere entrambi. In Inghilterra invece è la torta che è comunque un elemento molto importante, forse è l'elemento più importante all'interno della cucina tradizionale inglese. In Francia invece il burro che notoriamente è un elemento fondamentale nell'alimentazione e nella cucina francese. E poi ci sono un sacco di versioni interessanti per altre lingue e altre culture. Vediamo alcune adesso. To have your cake and eat it. In inglese, come anche in polacco, il detto che più si avvicina a avere, volere la botte piena della moglie ubriaca, è avere la torta e mangiarla. Mentre in francese, come avevamo già detto prima, è avere il burro, i soldi del burro e questa è la parte un po', diciamo, osé, il culo della signora che fa il burro. Almeno, diciamo, proprio letteralmente. Questo è molto sconcia! Perché queste frasi stessiste? Non posso avere il culo del cremiere? Sì! Voglio la botte piena, il marito ubriaco e il culo del cremiere. A questo punto. Come dicevamo, caratteristico per la cultura, perché l'inglese ha la torta, e i francesi sono molto attaccati ai dolci. Il francese ha il burro, perché il burro... E a quanto pare anche i polacchi sono, diciamo, molto dolcieri. In tedesco, invece, il detto è devi sempre suonare il primo violino. Il primo violino è devi essere sempre la persona più importante? Sì! Devi essere... vuoi essere sempre... Allora non devi... Vuoi avere sempre tutto, probabilmente. Non devi sempre essere il primo violino. È il volere sempre qualcosa che però non è sempre possibile. Diciamo, non puoi sempre essere il primo violino. Non puoi sempre suonare il primo violino. Non lo puoi avere tutto. Invece, per lo spagnolo, è molto simile, perché non puoi avere tutto. E beh, chiaramente. Non puoi avere tutto. Non fa... Una piega. Non fa una piega. Non fa una piega. Non fa una piega. Invece, per il greco, è non puoi avere la torta non toccata e il cane pieno. È un po' simile all'inglese, però in questo caso è molto su... Chissà perché poi sul cane. Sì. No, anche perché il dolce fa male al cane. Vabbè, però non è proprio la torta. È più... Un... Un... Un alimento. Teni la paella palmanac. In catalano è avere la padella... Tenere la padella per la maniglia. Adesso, nello specifico. È perché tu non puoi tenere la... Se andiamo proprio nello specifico, la padella non ha la maniglia ma ha il manico. Ah, ecco. È come avere... Prendere la padella per il manico... Per la maniglia che non ha. Quindi non puoi... Non puoi farlo. Non puoi farlo. E tutto si significa... Perché pratica una cosa impossibile da fare. Esatto. Quindi... Nella... Molto, diciamo... Nella cucina... Nè ardang e c'è, né serdano. Il turco, invece, è... Non vuole rinunciare né al cuore, né alla mente. Quindi né la parte razionale... Cioè vuole tenere insieme la parte razionale con la parte emotiva. e quindi è qualcosa che non si può fare che in genere non si può fare perché quando si deve prendere una decisione in maniera razionale bisogna lasciar perdere un po' l'emozione l'emotività certo anche questa è originale profondo, più degli altri eh, forse sì dai chiedi a patti è tutto torniamo a Milano, ciao ciao grazie per aver visto questa puntata e non dimenticate di andare a vedere gli altri video di questa settimana sugli altri canali perché troverete i video molto simili anche con espressioni in italiano quindi fatemi un bel giro su tutti gli altri canali di Easy Languages che questa settimana sono ancora più interessanti del solito e lasciate un commento ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti